wow c'è il pienone di tecnologie favolose come ti senti? parli con un ex bot duellante non mi agito per così poco si è nervoso non devi essere nervoso bello mio non è vero tranquillo il tuo progetto è pazzesco diglielo gogo basta fregnare fai la donna sto bene che ti serve piccoletto deodorante mentine per l'alito un paio di mutande pulite mutande pulite tu non sei normale sono previdente faccio una lavatrice da sei mesi le mutande mi durano quattro giorni le metto in un verso poi nell'altro verso poi le rivolto e le metto in un verso e nell'altro sei disgustoso e stupefacente non incoraggiarlo si chiama riciclare il prossimo partecipante hiro amada oh sì è il tuo momento tocca a me ok ok foto foto dite tutti hiro? hiro sì ci adoriamo hiro buona fortuna non combinare bocca al lupo piccoletto senza sì dai bro batti qua andiamo e il nostro saluto qualcosa non va voglio davvero entrare in questa scuola ehi puoi farcela